cari lettori di extreme hardware questo è un video di presentazione del telaio del cabinet in win di frame definirlo cabinet forse è un'esagerazione data la particolarissima struttura di questo modello che si caratterizza per moltissime peculiarità che spiegheremo fra poco innanzitutto la struttura esterna che è appunto unica perché è caratterizzata dalla presenza di tubazioni di alluminio cave spesso 2 mm che colorate in in arancio acceso che permettono conferiscono quindi una struttura open frame ovvero che è caratterizzata quindi da un'apertura diretta dalla totale assenza di filtri antipolvere e quindi questo permetterà una reazione complessiva sia dei componenti delle schede grafiche che della cpu una reazione massima anche per via del posizionamento della scheda madre con le schede grafiche che tendono verso l'alto quindi qualora fosse utilizzato un design reference dei pcb l'aria tenderebbe a salire per convenzione di calore stesso può dirsi per quanto riguarda il dissipatore del processore che sia a torre oppure con radiatori da 120 mm o eventualmente 240 mm qualora fosse rimossa la gabbia degli hard disk dissipatore che appunto si trova nello stesso identico posizionamento possiamo innanzitutto le ripensioni troviamo appunto 668 di lunghezza 482 in altezza e 305 lo spessore posteriore e supporta fino a quattro ventole a 120 mm con un particolarissimo sistema di bloccaggio senza viti 8 slot pci express 3 usb 2.2 usb punto zero e hd audio un led esistato degli hard disk alimentatori fino a 220 mm ed è interessante notare che è presente un sistema di sblocco che permette un posizionamento perfetto del modello il format factor è ATX anche se centrerà perfettamente ATX quindi schede ad esempio più larghe o leggermente più lunghe di quello che è lo standard normale quindi extend ATX sarebbe da verificare la compatibilità con modelli XL ATX purtroppo non ne possediamo uno quindi non possiamo darvi la conferma comunque tenete conto delle misurazioni che troverete nella recensione drive bay cosa possiamo dire che è presente un unica predisposizione per uno slot da 5.25 pollici però all'interno sono presenti tre predisposizioni per hard disk o sistemi da 3.5 pollici e due da 2.5 pollici ad esempio ssd il materiale del plate posteriore e anche appunto del telaio e alluminio cosa possiamo dire appunto della del telaio innanzitutto il fatto che è realizzato con un bagno di alluminio a 750 gradi e questo permette una fusione degli elementi pressoché perfetta anche perché è utilizzata una un un per quanto riguarda le le tolleranze laterali e la precisione del dell'assemblaggio assiale delle singole componenti è utilizzato un margine di errore di 0.5 mm e questo è molto importante perché permette quindi un design pressoché perfetto sono realizzati 500 modelli in serie questo è il numero 57 ed è stata riposta una cura pressoché estrema per quanto riguarda molti dettagli tecnici tra cui ad esempio la lavorazione in cnc dei fori per l'installazione delle componenti questo significa che non ci sarà nessun problema per quanto riguarda il montaggio di periferiche con viti spanate o potenziali problemi che potrebbero essere presenti invece in altri cabinet lavorazione in cnc è il massimo attualmente ottenibile oltre a questo è importante anche la procedura di saldatura delle tubazioni che potete vedere qui adesso zoomiamo e vi faccio vedere nel dettaglio ecco benissimo allora per quanto riguarda le tubazioni possiamo vedere che sono congiunte tramite una tecnica di saldatura questa tecnica si chiama tig ovvero in sostanza viene utilizzato un gas inerte di tungsteno che permette di migliorare e la stabilità complessiva e di questa interazione questo ovviamente è un lavoro che viene fatto interamente a mano e quindi si capisce per quale ragione questa procedura possa essere complessa e per quale ragione quindi il cabinet sia a tiratura limitata che ovviamente ha un prezzo di acquisto molto elevato perché ricordiamo che qui stiamo parlando di un modello da circa 400 euro o 400 sterline insomma dipende dove lo acquistate oltre a questo quindi in sostanza abbiamo un cabinet particolarissimo con lavorazioni in cnc e soprattutto range di errore fondamentalmente nullo che viene utilizzato nell'industria aerospaziale questo è solo per farvi capire quanto quanta cura è stata riposta questa è la parte posteriore possiamo notare che sono presenti dei sistemi di cablaggio che rendono veramente tutto pressoché perfetto in modo diverso da quanto abbiamo visto invece nell'H frame nell'H frame sempre di Nguin che invece il cui cablaggio posteriore forse era leggermente problematico comunque sia questo è un cabinet che viene fornito e smontato e quindi è necessario montarlo però la procedura sarà davvero facilissima se seguirete appunto il nostro sistema di assemblaggio che potrete trovare nella recensione oltre a questo possiamo notare che qui vengono installati due SSD posteriormente qui a periferica è da 5.25 pollici a lato dell'installazione dovete in sostanza controllare l'allineamento di questa parte posteriore vedete questa inclinazione ebbene è quella che dovrete seguire nella procedura dell'installazione affinché sia nella parte posteriore questo perché nel manuale non viene riportato diciamo correttamente o meglio viene riportato ma non in modo così esaustivo ad ogni modo affronteremo la discussione in modo approfondito successivamente cosa possiamo dire innanzitutto l'impressione iniziale è formidabile perché c'è poco da aggiungere insomma se ve lo trovate davanti vi rendete conto immediatamente di cosa stiamo parlando per quanto riguarda le ventole la ventilazione e le performance sono eccezionali punto non c'è da dire poco altro perché non credo che servano ulteriori commenti in materia tipologia della ventilazione stile Silverstone quindi per doppia o tripla scheda grafica senza problemi con rumore più basso che c'è per soluzioni reference dissipazione per dissipatori ad aria eccezionale ovviamente per modelli che sono stati studiati con un target ATX quindi con i pipe che vanno verso l'esterno e non verso l'alto o il basso perché quello potrebbe rappresentare appunto una differenza finiture eccezionali credetemi c'è veramente poco da aggiungere perché si resta quasi a bocca aperta vedendolo davanti sebbene se la vostra ragazza dovesse vederlo ha pensato immediatamente che era una sorta di attrezzo dei pompieri e roba del genere insomma c'ha sempre qualche frase per denigrare le meraviglie che osservate in questo canale YouTube comunque sia questo è il pulsante di eccezione l'unico difetto che potremmo trovare in questo cabinet potrebbe essere forse sì il fatto che potrebbe essere necessaria una pulizia leggermente maggiore per quanto riguarda il dissipatore reference della scheda grafiche fondamentalmente qualora fossero utilizzati sistemi aventi lamelle non eccessivamente serrate il problema della polvere sarebbe molto relativo l'alimentatore viene posizionato in questa maniera qui in verticale dischi in verticale per quanto riguarda l'usura sui dischi è un discorso complesso comunque sia generalmente non si è accertato il problema nel senso che se fossero posizionati orizzontalmente o verticalmente in sostanza cambia poco però sarebbe consigliabile utilizzare dischi che hanno lavorato sempre in un solo orientamento questo per via delle frizioni interne oltre a questo vi rimandiamo alla galleria fotografica nella recensione e ai commenti commentate il video se vi interessano dettagli particolari di questo modello tolleranze o altro o eventuali richieste siamo qui a vostra disposizione